Siamo in Bosco di Baugiano, una tranquillissima domenica mattina, come tante, un giovane pescatore decide di andare a pescare alla trota, proprio lì, sì, a Baugiano Alto, dove scorre il fiume, dove il fiume si intreccia con il mare, dove il mare si intreccia con il cielo e gli uccelli cantano anzoni di mocelli. Oioio, che ore è l'enno? Le cinque di mattina, sì, a quest'ora non c'è un canio, meno male. Bada là, che trofa c'è da giù. C'è anche dell'anzonco, ho detto male. No? È passato di chi, ha detto un metterbo. Eh, mi ha detto male. Eh, ma qui come si sta? Eh, va, a rompere i coglioni a me si sta, questo. Era uno apposta per stato l'oro di Santa Facce. Ma d'acqua. Ma veramente un va, l'acqua, gli ha messo su. Che pesca opacini? No, pesca opacini, non è che pesca. Fa per ragionare. Sì, fa ragionare con i cofunghi, fa a ragionare. Sono venuto apposta per pescare solo, per un ragionare, questo lo fa per ragionare. Allora? Ti dai, ti dai, guarda lì, guarda lì, guarda lì. C'è la zoccola, c'è la zoccola. Va, vai, 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 oh, va, che buona mano. Vieni, vieni, un secondo. Ah, guarda lì. Sono venuto a chiamarti stamattina a svegliarti, vieni a pescare io via le cinque mattina. Se non tu c'è la camola, ti prendi l'uomo. Guarda lì, guarda lì, guarda, ti sbottano lì. Sì, certo, è stato un fiume, la sbotta si dice sassi. Sbotta. Oh, che ti dai, va, va lì, va lì, va lì, va lì, vai lì, vai lì, scendo, scendo. Oh, che è che è che è che è. Partia bene. Però, che è che partia davvero? È tutto programmato, abbiamo fatto apposta a casa. C'è una buona tecnica, eh. Senti, fa una cosa, mi sono tolto oggi, mi sai che è troncata la canta, la forza. Ti dà una mano. ora io mangio, c'ho da fare colazione, c'ho il panino, c'ho l'acqua ora dell'84 per l'altro fifa 96 ma stai attento alle frasche, c'è le fresche frasche sapevi? ma il casino ha gli uccelli? e si deve pescare pesci, non gli uccelli e pira in cielo, pira a passe c'ho un problema, mi sento no scusa, voleva aiutare resta da me solo no la parte